è uno dei tre pilastri delle manifestazioni estive che si terranno a Fano in tempi di fase 2 post coronavirus. Fano Jazz by the Sea andrà in scena dal 24 al 31 luglio con la sua 28esima edizione. A lui il compito di aprire la strada a passaggi festival e brodetto dopo che compongono il tridente d'attacco dell'estate fanese con il compito di rispettare tutte le normative di sicurezza anti covid-19. Una sfida non solo per l'organizzazione del festival ma anche per l'amministrazione comunale che ha assicurato anche quest'anno il suo supporto economico e di partnership pubblica assieme ovviamente alla Regione Marche che ha confermato il suo contributo economico. Quest'anno abbiamo parlato anche di teatro a cielo aperto e il festival si inserisce a pieno regime anche in questa circostanza. Siamo contenti di averlo mantenuto perché ha dimostrato di avere radici profonde ma soprattutto si è radicato nella città. Questo è un gran risultato e l'abbiamo capito anche dall'attenzione e dalla forte richiesta che c'è stata anche nei momenti più bui dove rischiavamo di mettere in discussione anche se in cuor nostro non l'abbiamo mai pensato anche all'organizzazione di questi eventi. Una manifestazione del calibro raggiunto da Fano Gerson è una cosa che si organizza in 4 e 4-8 mesi e mesi di pianificazione che a marzo però in piena riorganizzazione ed emergenza coronavirus è saltata totalmente. Morale della favola impiantare un'edizione degna di tale fama in soli 30 giorni. No, non è stata una cosa semplice, non era scontata. Come prima cosa naturalmente cercare di capire come mettere in sicurezza gli artisti, il pubblico, tutto lo staff perché questa è la prima cosa che naturalmente a cui dobbiamo far fronte, che è una cosa inedita, non avevamo idea di cosa potesse essere. Dopodiché ci siamo messi in moto per capire come il festival poteva essere riorganizzato. Città e resilienza sono le due parole d'ordine di questa edizione sui generis che dovrà contare molto sui fanesi come pubblico e sul territorio limitrofo. Avevo individuato due parole che sono appunto questa della città e della resilienza. La città diventa protagonista del festival. Non essendoci più il jazz village, il festival si diffonde nella città. E l'altro è quella della resilienza perché questo concetto di andare oltre le difficoltà, cioè di trarre motivo di riorganizzazione partendo dalle difficoltà. E questo mi ha fatto venire in mente che il jazz è stata una vicenda che ha saputo da un dramma come la deportazione, come la schiavitù, ha saputo portare, alimentare e generare una musica così importante per noi. Mantenute inalterate, formula e spirito green ecologista ed impegno sociale con la grande musica che sarà sempre la protagonista. Saranno presenti i musicisti che sono più rappresentativi del panorama del jazz italiano sicuramente, anche a livello internazionale. Cito Paolo Freso di Buonaventura, Aire Stango, Gianluca Petrella, Antonello Salis, il meglio a Fabrizio Bosso, il meglio del jazz italiano.